Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte, la morte non darà più rivolverè. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte, la morte non darà più rivolverè. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte, la morte non darà più rivolverè. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte. Una musa che ci guida, a curar la collettività. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte. Una musa che ci guida, a curar la collettività, attraverso un piatto morte. E io voglio pensare a communicating. E io voglio pensare a cui salve.